Con Mattevo Zizakian, SMP Racing, uno dei migliori ruggieri del grido, tu hai più qualificato in questa season, come ti senti? La qualità è stata davvero buona, abbiamo sfruttato molto l'esterno, e questo risultato oggi è un grande risultato con l'esterno, ma sappiamo il nostro potenziale, quindi siamo abbastanza felici, anche se non ho messo tutto insieme, potrei essere P2, ma P4 è abbastanza buona, e spero di migliorare nella russa e finalmente ottenere il potenziale. Questa mattina sarà il pit stop, come potenziale sarà per te? Il pit stop non è una cosa molto difficile da fare, la squadra è davvero esperienza e sono davvero buoni, quindi vediamo la russa e vediamo cosa ci viene.